Radio Radicale, alle 15.30 di oggi si è svolta una seduta della Commissione Bilancio per esprimere alcuni pareri su dei provvedimenti che arriveranno in aula. Non è stato possibile fare nulla sulla legge di bilancio, però nella giornata di questa sera, 12 dicembre, alle ore 18, ci sarà un ufficio di presidenza. Secondo quanto ci ha dichiarato il senatore Dario Damiani di Forza Italia, sarà difficile che questa sera arrivino le proposte dei relatori e del Governo. Ricordiamo che per norma regolamentare devono arrivare tutte le proposte di modifica per avviare l'esame degli emendamenti e quindi andare avanti con il lavoro. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni del relatore Dario Damiani, ascoltiamo che cosa ci ha detto in merito a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore e soprattutto sull'interlocuzione che è stata avviata con il Governo sul super bonus e quali sono le prospettive. Damiani ha ribadito, così come è successo ieri, che il fondo parlamentare resta integro, 100 milioni, 100 milioni, 100 milioni per i prossimi tre anni e ha anche dichiarato che la maggioranza e il Governo sono aperti alle proposte emendative che presenterà l'opposizione. Questo è quello che ci ha dichiarato Dario Damiani, ve lo facciamo ascoltare e vedere. Buona visione.